Città della Scienza Città della Scienza E' estremamente importante investire per noi aziende napoletane, partenopee, investire nella nostra città. Come giustamente sottolineavi è la seconda volta che torniamo qui dopo i piacevoli avvenimenti che ci sono stati. Oltretutto Città della Scienza ci ospita, ci dà la possibilità di accogliere tutti quanti quelli che sono i nostri punti vendita diretta e punti vendita franchising. E' una bella giornata farla in questa location estremamente importante. Oltretutto Camomile è sempre presente sul territorio, lo shooting di tutta la campagna autunno-inverno è stata realizzata in un'altra location sempre molto importante che è l'orto botanico di Napoli, che spesse volte non apprezziamo quelle che sono le ricchezze della nostra città.